Ciao, sono Erika dal Comitato Due Rocche. Alle mie spalle potete ammirare lo splendore della Villa di Maser, complesso pallaviano e patrimonio dell'UNESCO che farà da scenario al passaggio degli atleti della Due Rocche. Abbiamo scelto un luogo simbolo dei nostri percorsi a pochi passi dal centro storico di Asolo e dalla sede di Scarpa, main sponsor della gara e leader mondiale nella produzione di calzature da montagna, per raccontarvi il particolare regame che unisce la Due Rocche, il tessuto culturale e le realtà produttive del territorio. Un connubio, quello trasporto, cultura e innovazione industriale, che lascio descrivere alle parole di Sandro Parisotto, presidente di Scarpa, a Gerardo Pessetto, assessore alla cultura del comune di Asolo e al padrone di casa, il conte Vittorio Dalleore. La Villa di Maser è un punto di riferimento, visitata ogni anno da visitatori da tutto il mondo. Abbiamo l'immenso onore di essere patrimonio dell'umanità UNESCO e per noi è una grande gioia che la Due Rocche passi da questo meraviglioso scenario e possa godere di tutta questa bellezza. Lasciamo per un attimo la Villa di Maser e saliamo in Asolo per incontrare Sandro Parisotto e Gerardo Pessetto. Andiamo! L'impegno di Scarpa per il seguimento trail è nato circa 4-5 anni fa. È logico che per un'azienda come Scarpa dedicata all'autodoro il settore del trail running era una evoluzione dovuta. Anche perché noi qui ad Asolo ci troviamo nel centro del distretto della calzatura sportiva. Grazie anche alla collaborazione che abbiamo da diversi anni con la manifestazione delle Due Rocche, questo è un evento che permette a Scarpa di farsi conoscere in questa attività. Quindi vi aspettiamo tutti per il 25 aprile. Buongiorno a tutti, siamo qui nel Museo Civico di Asolo dove la Due Rocche in ottica di promozione ha voluto quest'anno essere presente. Qui al mio fianco abbiamo l'assessore della cultura e allo sport di Asolo il signor Gerardo Pessetto. Gerardo? Grazie Massimiliano. Da diversi anni, 40 anni, mi pare, circa di questa gara è iniziata, è partita e ormai ha raggiunto un livello di conoscenza, di apprezzamento a livello nazionale e forse anche qualcuno arriva magari anche oltre i nostri confini. Per cui diciamo che è un abbinamento tra quello che è lo sport e la cultura perché partiamo da Asolo, facciamo un percorso storico che collega le due Rocche, la Rocca di Asolo e la Rocca di Cornuda e poi c'è l'aspetto di turismo, quindi la possibilità anche per chi arriverà nei nostri luoghi per fare questa gara, per visitare questa mostra, per visitare Asolo, Rocca di Asolo, che verrà comunque raggiunta dai nostri atleti in un'ottica anche di promozione e assegnazione di un campionato italiano che ci è stato riconosciuto dalla Federazione. Quindi la prova del 3,48 km sarà valevole per il campionato italiano utile.